Ciao a tutti cagnacci, questa è la seconda domanda a cui rispondo, quindi FAC2, perché la prima già l'ho fatta, il video lo potete trovare qua, se avete gli smartphone lo trovate nella descrizione del video, nelle informazioni. Mi hanno chiesto, ma quante magliette dell'hard rock hai? Innanzitutto diciamo che io sono un fan dell'hard rock, ho anche la tessera, special arches, cioè se c'è la fila io la salto, come un VIP, ma lo sono, cioè anche se non avevo questa probabilmente mi facevano saltare la fila, perché io comunque sono un personaggio di un certo livello su internet, quindi ne avrebbero fatto passare. Però per sicurezza ho preso anche la tessera hard rock, questa è una tessera che ti fa saltare le file, ti fa fare sconti, ti fa usare il loro store o una sezione speciale sul sito, ogni tot maglie che compri c'è una in omaggio, quindi ho fatto la tessera hard rock, perché nelle città quando vado mi piace riportare come ricordo una maglietta dell'hard rock, se c'è lo store hard rock. Non tutte le città purtroppo ce l'hanno, come ad esempio Istanbul non ha lo store hard rock. Me ne mancano alcune, anzi me ne mancano un bel po' delle città dove sono stato, mi mancano Washington, mi manca Filadelfia, Kuala Lumpur, Pattaya, Hong Kong, Macao, Parigi, me ne mancano veramente un sacco, Praga non ha lo store, e quindi quelle le recupererò da internet con la buona scheda appena due spicci ce l'ho. Allora, ho questa qui, semplice semplice, c'è scritto hard rock New York, questa è una maglietta dell'hard rock di New York, e dietro c'è la maglietta Born in the USA, con il disegno fatto proprio dal cantante che, pensate alla mia ignoranza musicale, non so neanche chi cazzo è, l'ho presa solo perché era bella. Questa, dopo ciò, questa che l'ho presa ad Amsterdam, sac, già si è rovinata, infatti poi vi dirò che cosa farò con tutte queste magliette appena recupero quelle dove sono stato. Questa bella, questa è la mia maglia da obbligatura, questa è l'ho presa a Monaco, pam, mansion, a volte le prendo con, no, le prendo sempre mi sembra con il nome della città, no, non è vero. originale, no, ci stavo pensando, ma non è così. Poi ho questa qui di Barcellona, che è una figata, è bella. Dietro, dietro c'è questo, sempre il disegno di Eric Clapton, bello. Allora, quindi Barcellona, Monaco, New York, Amsterdam, ah, questa, questa è stupenda, questa è del Yankee Stadium, cioè, questa l'ho presa a New York, ma allo stadio dei New York Yankees. E' totale, questa è la, ah, meravigliosa. Questa invece è di Bangkok. Bangkok, davanti così. Mazza quanto è grosso, ho proprio ciccione. Sec. E alla fine c'è questa qui di Londra, l'ultima che ho preso. Londra è così, dietro non c'è nulla. E, ripeto, mi mancano quelle di Guala, Lumpo, eccetera. Quando avrò finito, quando avrò recuperato i posti dove sono stato fino adesso, tutte le maglie, ci faccio una coperta. Porto dalla sarta tutte le magliette, ci faccio una coperta. Una buona idea. Ciao a tutti i gagnacci. Ciao a tutti i gatti. Grazie.